esatto in questo pezzettino c'era il dash si vero come dio l'attesa monomone erudita se l'attesa per monomone erudita è questa stessa guardalo cosa credevi che succedessero carezze no magari ci parlavo prima faceva due chiacchiere poi potevo decidere se combatterci certo chi non parla con le merese non le sto facendo danno e ciao ragazzi beh vaffan qui guardate l'arma che sei mai poi qui 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 l'ho qui tacchino tacchino sta dicendo attaccalo ma vaffan bravissimo comunque bellissima questa cosa mi sto galvanizzando un monte anche se mi sta dicendo cretino cretino colpisci la colpisci la vita con ci di noi non potresti mai fare eh no vai mannaggia ok continuare a muoversi anche io c'eruna c'era che c'è 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 finestra di cura ormai sta cosa dalla finestra di cura è un po' bene eh si si ormai finestra di cura si si ma l'ultima volta fu bellissimo hai 18 finestre di cura ok scomparso l'otto scomparso il danno esatto ho full vita o niente comunque visto che è bello che con il mega range praticamente non devi rimbalzare appicciccata al nemico eh no la senti veramente da distanza forte 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 amma mia gg c'è 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 strai atticciò quindi che ecco ch 這